Ciao a tutti, buongiorno, sono Lorenzo Tulli della LM Auto di Giulianova, ci troviamo sulla statale 16 in via Galileo Galilei 285, esattamente di fronte a Faieta Motor. Nella mia azienda prettamente ormai trattiamo tutti i tipi di auto, soprattutto negli ultimi anni ci siamo incentrati su richieste per quanto riguarda il nostro tipo di clientela, sull'usato economico, seminuovo e aziendale. Siamo presenti ormai a Giulianova dal 2012, prima eravamo in un capannone, adesso abbiamo un'azienda ormai dal 2017, privata, più a misura d'uomo, essendo un'azienda familiare, siamo io e mio padre, ho ereditato con lui l'esperienza di una vita visto che è stato il suo lavoro, il suo secondo lavoro e poi è diventato il primo lavoro, appunto dall'incirca degli anni 70, quindi parliamo da ben oltre 40 anni, prima esperienze con mandati diretti per quanto riguarda concessionarie e plurimandatarie, ormai ci siamo specializzati sul servizio che riguarda prettamente l'usato, negli ultimi anni abbiamo cercato soprattutto di avere anche l'opportunità di acquistare auto sempre per un discorso di rivendita, diciamo che sta andando bene nonostante il discorso crisi, nonostante gli ultimi anni pandemici, abbiamo sempre incentrato tutto sul discorso di garantire le nostre auto, di dare comunque un servizio anche dopo la vendita, il classico post vendita, anche non avendo un diretto contatto con una nostra officina, ma abbiamo più di tante officine nel luogo e anche extracomunali affiliate alla nostra azienda, quindi seguiamo comunque sempre nel tempo con garanzie ufficiali riconosciute anche dal lati consum, quindi cerchiamo di garantire anche sull'usato più economico di qualche migliaio di euro, riusciamo comunque a garantire sempre il nostro nome, la nostra esperienza che comunque è appunto di parecchi anni. Detto ciò vi dico, gli ultimi servizi che facciamo ormai sono tutti quelli di vendita, di garanzie, finanziamenti e quant'altro, anticipi zero e tutto, ma negli ultimi anni ribadisco ci siamo incentrati su qualsiasi tipo di mezzo sia da poter acquistare per poi poter rivendere. Niente, vi dico di venirci a trovare se passate lungo la statale, per qualsiasi domanda, ma soprattutto informazioni non esitate a contattarci, vi darò il numero di telefonino, anche su whatsapp, anche semplicemente mandando delle foto informative o richieste di auto che seppur non sono magari a terra nel nostro piazzale, possiamo comunque cercare di reperire, cercare di trovare a vostra richiesta, a vostro consiglio, saremo comunque a disposizione a 360 gradi. Vi ricordo quindi che siamo sulla statale 16 via Galileo Galilei, vi lascio il numero che è il fisso allo 085 9354310 e il cellulare al 320 861506, la LM Auto, ci riconoscete che abbiamo un recinto in vetro molto elegante, un piazzale abbastanza lungo. Un grazie e arrivederci.